ok gaston vieni qua, vieni pulce, vieni, vieni amore, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni, 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 sulla sedia, eccolo qua, questo bambino, spostiamo questo, braccio da parte di Riccardo, e stai bruciando, sta meglio proprio, mh, vero, guarda di là, guarda di là, chi c'è, chi c'è, c'è, gira tu, gira tu, gira tu, gaston di qua, chi c'è, è una bella bestia si guarda con gli occhi della morte con gli occhi dell'amora vera aspettiamo a partire facciamo massaggino tipo colliano vero intanto si sentono le accette della cacciatrice che passano guarda che tirava la linguetta guardalo non è pulso eh ma papà così mi vizzi eh così mi vizzi vero pulce i streamer hanno gli animali finti e noi abbiamo l'animale vero c'è un elemento in basso a sinistra e in basso a destra e noi abbiamo l'animale vero c'hanno il draghetto e noi abbiamo il gaston vero? vero pulce eh? è vero guardami mi metto qua ma che faccia che fa? si ma gioco eh l'ho trovata gaston scendi per favore bravo vedi che ancora serve ok ok non c'è te extra vai e si mette qua eh? si mette qua eh bello 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 bambino bello tampino dai dai ma è una cosa unica è una cosa unica guarda eh si ah eh si ma non manca si 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 ci vuole accompagnare sto bambino che so per quando è solo vero? c'hai due occhi che non lo so, sono due diamanti guarda, sì sì, assolutamente assolutamente